Innanzitutto vi ringrazio per essere qui, per me è un grande onore poter raccogliere Emanuele Andriano presso il Palazzo di Città, anche perché tu sei nato qui a Battivaglia nel 1990 e ho ottenuto la laurea triennale in biotecnologia presso l'Unità di Siena nel 2013 successivamente ha avuto una borsa di studio presso l'Università di Newcastle e dove ha anche ottenuto la sua laurea magistrale in immunobiologia nel 2015 tappe velocissime Emanuele, bravissimo Nella turno dello stesso anno Emanuele ha iniziato il suo dottorato presso l'Università di Siena ottenendo il titolo di dottore di ricerca nell'aprile del 2019 Per i risultati ottenuti durante il suo dottorato Emanuele è stato premiato a Parigi nel 2017 nel 2018 ad Atlanta negli Stati Uniti e nel 2018 sempre a Asheville negli Stati Uniti L'esperienza accumulata durante il suo percorso è stata utilizzata per studiare e identificare anticorpi monoclonali contro il coronavirus e copre ora la posizione di responsabile del progetto Covid-19 presso il MedLab della Fondazione Toscana Life Science diretto dal professore Lino Rappuoli Chi non conosce il professore Rino Rappuoli l'altra mattina l'ho visto sul Rai 1 è un professore di fama internazionale il papà dei vaccini moderni ed è uno che fa scuola e stanno mettendo loro a punto un anticorpo monoclonale per la terpia del coronavirus. Voi sapete che come diceva prima Emanuele in una intervista effettivamente la scienza ha fatto miracoli perché il coronavirus è di recente impatto con la popolazione lo conosciamo questo tipo di coronavirus da poco e nel giro di poco tempo molti laboratori sono messi su a studiare per creare un vaccino, ci sono le varianti, loro stanno studiando un anticorpo nuovo, nel senso un anticorpo che risponde anche contro le varianti inglesi, sudafricane, brasiliane, per noi molto importanti quindi avere un brevetto italiano, puramente italiano è un motivo di orgoglio ecco perché ci tenevo che Emanuele raccontasse, non solo ai cittadini di battivano perché la diretta Facebook che mi sta ovunque raccontasse a noi che cosa stanno facendo, quali sono i momenti importanti di questa ricerca quali sono gli sviluppi e ne approfitto per ringraziare lui, tutto il suo staff, il professore per tutti coloro che si dedicano alla ricerca, perché sapete la ricerca è una cosa che presuppone molto sacrificio la ricerca è, poi immaginate questi ragazzi che stanno in laboratorio, che stanno davanti a un microscopio che stanno a pipettare, cioè che fanno il lavoro duro, che poi magari si vende qualcun altro la ditta farmaceutica o l'università, però è importante quel lavoro perché se non c'è il lavoro il lavoro di questi giovani ricercatori praticamente la nostra società non va avanti quindi grazie Emanuele per il tuo lavoro, per quello che farai perché sei giovanissimo e hai raggiunto già questi obiettivi e grazie a tutti quanti che con te contribuiscono nella ricerca quindi ora ripasso la parola a lui perché sicuramente dica cose molto più interessanti Grazie mille In primis vorrei ringraziare la sindaca per aver organizzato questa giornata e il suo staff per me è un piacere essere qui ovviamente essendo battipagliese avere la possibilità di parlare sia ai cittadini sia potenzialmente a chiunque vedrà questa diretta per me non può essere altro che un piacere il nostro laboratorio che si chiama MADLAB che sta proprio per monoclonali, anticorpi, discorri e lato ovvero il laboratorio di discorri e anticorpi monoclonali è nato, è giovanissimo anche questo nato nel 2019 con un altro obiettivo, ovvero quello di identificare anticorpi monoclonali contro un altro enorme problema che è quello dei batteri resistenti agli antibiotici essendo nato nel 2019 come potete capire subito dopo, dopo neanche un anno, a fine 2019 è scoppiata la pandemia del Covid avendo noi a disposizione sia le infrastrutture e l'expertise necessaria per identificare anticorpi monoclonali subito diciamo in febbraio-marzo 2019 il professor Rampoli stesso arrivò e disse noi abbiamo la possibilità di farlo, abbiamo l'esperienza per poterlo farlo quindi abbiamo il dovere morale di iniziare questa lotta contro il Covid e da lì abbiamo iniziato e non ci siamo mai fermati, tuttora continua la ricerca, tuttora continua la necessità di essere sempre un passo avanti al Covid il processo che ci ha portato all'identificazione di questo anticorpi monoclonali è iniziata appunto subito a fine febbraio-inizio marzo quando praticamente il professor Rappoli parlò subito con il professor Giuseppe Ippolito direttore scientifico dell'istituto Lazzaro Sparanzale di Roma dove erano presenti i primi tre pazienti che appunto erano infetti di Covid qui in Italia perché per fare il tipo di processo, comunque la ricerca scientifica che facciamo noi è importantissimo riuscire ad avere a disposizione il sangue di questi soggetti convalescenti perché è proprio da lì che noi identifichiamo le cellule B che sono le cellule che producono gli anticorpi nel nostro organismo abbiamo isolato queste cellule B che producevano naturalmente gli anticorpi nel nostro laboratorio abbiamo isolato e testato oltre 4.000 cellule di oltre queste 4.000 cellule circa 2.000 erano in grado di riconoscere il virus e di queste 2.000 oltre 400 erano in grado di neutralizzare il virus ma l'obiettivo era di trovare l'anticorpo per eccellenza cioè il nostro anticorpo deve essere in grado di funzionare in maniera eccezionale e quindi abbiamo proprio cercato il cosiddetto agone e pagliaio ovvero l'anticorpo che riusciva a funzionare al dosaggio più basso per neutralizzare la quantità maggiore del virus ed è così stato quindi avevamo raggiunto la fase in cui avevamo a disposizione 3 candidati di questi 400 anticorpi ne avevamo selezionati 3 e di questo solo uno effettivamente si aveva dimostrato questa enorme efficacia subito dopo abbiamo continuato ovviamente se pensate che marzo 2019 l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia dopo neanche un anno dicembre 2019 l'Inghilterra dichiara la presenza dicembre 2020 l'Inghilterra dichiara la presenza delle prime varianti la cosiddetta variante UK e quindi da lì è ripartito tutto iniziamo subito a testare i nostri antivorpo iniziamo subito a vedere che effettivamente continuano a funzionare ma dalla UK subito si è passata alla variante brasiliana alla sudafricana a un sacco di varianti che potevano mettere a rischio non solo l'efficacia del nostro antivorpo monoclonale ma anche dei vaccini quindi la primissima cosa che abbiamo fatto è riuscire a recuperare questi virus sempre in collaborazione con lo studio Spallanzani che si appunto isolando questi virus dai pazienti infetti ci mandava il virus e abbiamo testato l'anticorpo anche su queste varianti l'anticorpo ha dimostrato comunque di mantenere la sua efficacia e di continuare a neutralizzare le diverse varianti del virus e quando abbiamo identificato questo candidato era più o meno giugno 2020 quindi fatto questo step di identificazione e aver deciso qual era l'anticorpo che volevano portare avanti è iniziata subito la fase di sviluppo perché la fase di ricerca è importantissima ma è altrettanto importante la fase di sviluppo e la fase clinica perché ovviamente non può rimanere un qualcosa che rimane in laboratorio ma deve essere somministrati i pazienti quindi da giugno fino a continuare ancora dottore ovviamente è stato un enorme lavoro che è stato fatto non solo da noi ma da tutto quello che definiamo un hub scientifico tutto un complesso scientifico un macchinario scientifico all'interno del territorio sinese e italiano che ha permesso appunto lo sviluppo dell'anticorpo che adesso da inizio marzo 2021 è entrato in fase clinica per adesso l'abbiamo somministrato a soggetti sani quindi per vedere appunto andare a valutare qual è la sicurezza del farmaco quanto è tollerabile il farmaco ma poi successivamente a fine aprile dovremmo finire questa fase e entrare nella fase 2-3 che è quella che appunto si va ad essere somministrato a soggetti che hanno contratto il Covid e quindi è da valutare l'efficacia terapeutica e penso che più o meno poi si è l'espulso sì, volevo chiederti dentro quanto bisogna fare quanto si inizia la terapia con l'anticorpo? se lo spieghi allora, come potete immaginare come tutte le terapie prima si riesce a dare una volta contratto il Covid prima si riesce a dare l'anticorpo e ovviamente migliore sarà l'efficacia perché se pensiamo in soggetti che hanno già sviluppato un'infezione severa un'infezione acuta ovviamente ci saranno già danni ai tessuti ai polmoni che l'anticorpo non riuscirà a riparare riuscirà a bloccare e a evitare che il virus continui a risbandersi e continui ad arrecare danni ma i danni già preesistenti non possono essere trattati dall'anticorpo quindi prima si dà e più sarà efficace in un'altra cosa se spieghi la differenza rispetto che esiste già una terapia con un anticorpo monoclonale ma questo anticorpo che stanno costruendo loro ha questa peculiarità di rispondere alle diverse varianti cosa che il primo anticorpo quello che ha fatto Trump per intenderci non è così e spiega anche la differenza se ho capito male anche il costo rispetto al primo anticorpo che dovrebbe essere più favorevole che molti dicono è una terapia che costa ma costa secondo me molto più per tenere un paziente in terapia intensiva per tempo che una terapia con anticorpo monoclonale quindi se ci spieghi anche la differenza questa ovviamente da quando è iniziata la pandemia del covid tantissime altre aziende e istituti di ricerca principalmente negli Stati Uniti hanno iniziato la ricerca su anticorpi monoclonali e i primissimi che sono riusciti a identificare le hanno subito portati in sviluppo iniziando subito le fasi tecniche quanto prima possibile per avere un tool emergenziale uno strumento da utilizzare in maniera emergenziale proprio per questa situazione della pandemia questo ha fatto sì però che gli anticorpi che hanno identificato loro non sono particolarmente potenti e di conseguenza per avere un'efficacia clinica devono essere somministrate dei dosaggi importanti inoltre proprio perché non avevano questa potenza importante iniziale diversi di loro falliscono completamente su diverse varianti emergenti specialmente la sud africana e la brasiliana quindi di conseguenza continuano ad essere un ottimo tool un intervento clinico importante per determinate fasce ma non riescono a coprire non riusciranno comunque a coprire tutte le persone che saranno infette dal covid nel momento in cui le varianti emergenti prenderanno il sopravvento sul virus originale l'altra cosa importantissima mentre quello che abbiamo fatto noi ha richiesto più tempo perché se pensiamo che loro già hanno ricevuto l'autorizzazione per l'uso emergenziale quindi già a dicembre 2020 hanno ricevuto l'autorizzazione per poter somministrare i pazienti covid noi siamo ancora nella fase prima prima di poterli dare ufficialmente però l'aspettare e avere un attimo più calma nel selezionare quello che è l'anticorpo più funzionale adesso ci sta dando grandi vantaggi perché sembra funzionare anche su dei varianti ovviamente avendo una potenza di neutralizzazione quello che noi chiamiamo potenza di neutralizzazione nettamente superiore 30-40 volte rispetto ad altri anticorpi potete immaginare se un anticorpo viene somministrato a 7-8 grammi e ha un determinato costo se hai bisogno di 30-40 volte meno anticorpo per avere la stessa efficacia si abbassano i costi in maniera abbastanza proporzionale bravo qualche domanda la sindaca ha già fatto le domande con le domande scusami no 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 sei molto più competente in questo caso per me va benissimo sono le domande che ti sono più chiedendo scusa prima l'ho fatta e poi mi sono rientrata come giornalista non era una critica diciamo anche visto che ci sei anche se tu voglio dire sei esperto sostanzialmente sui anticorpi monoconali ma diciamo che l'anticorpo non è un'alternativa al vaccino spieghiamo meglio questo passaggio cioè il vaccino è prevenzione che ci difende dal virus ma l'anticorpo interviene nella terapia se fai questo passaggio in maniera più ci sono due cose fondamentali da distinguere tra vaccinazione e l'utilizzo di anticorpi monoconali i vaccini fanno quello che viene definita un'immunizzazione attiva ovvero si dà un principio al soggetto questo principio stimola il sistema immunitario della persona che ha ricevuto la vaccinazione in modo tale che poi il sistema immunitario sarà in grado di proteggere dall'infezione per diversi anni ovviamente per stimolare il sistema immunitario c'è bisogno di un po' più di tempo come avete visto c'è una prima fase la prima dose che poi dopo un mese viene seguita da una seconda dose e dopo circa un paio di settimane si dovrebbe avere dalla seconda dose si dovrebbe avere una protezione importante che appunto resiste all'infezione del covid quindi tutto questo passano circa sei settimane un mese e mezzo ma la protezione dovrebbe durare più a lungo per quanto riguarda gli anticorpi non cronali invece fanno quella che viene definita un'immunizzazione passiva ovvero viene dato nel momento in cui viene dato è direttamente funzionale ed è in grado di proteggerci dall'infezione ma non ha durata più limitata che può durare dai 3 ai 6 mesi e questo sarà oggetto di valutazione negli studi clinici quindi l'anticorpo monoconale ha questo doppio uso ovvero può essere dato in maniera profilattica se noi pensiamo in setting emergenziali come sperali che dovesse nascere un nuovo focolaio o qualcosa dove c'è bisogno di essere immediatamente protetti c'è l'anticorpo e viene dato nella popolazione invece è indispensabile che ci sia la recitazione l'altra però soluzione è invece quello terapeutico dove il vaccino non può essere dato a soggetti che hanno già contratto il colito o durante l'infezione ma deve essere dato prima mentre l'anticorpo monoconale può essere dato durante l'infezione proprio a scopo terapeutico e per curarlo grazie io penso che se qualcuno deve fare qualche domanda dal pubblico però penso che sia stato almeno per me abbastanza sospetti allora finendo la fase 1 dovremmo finire la fase 1 verso fine aprile quindi se finiamo la fase 2 verso 2 3 verso l'estate dobbiamo vedere potrebbe essere disponibile per l'estate diciamo così però dipende da se riusciamo ad avere un'attualizzazione emergenziale di questi anticorpi come l'hanno già ottenuta altri che sono attualmente in utilizzo clinico è tutto un lavoro che stiamo portando avanti attualmente va bene io vi ringrazio vi ringrazio questa splendida lezione magari non so funziona se mi produce volevamo giusto darti forse già lo conosci una raccolta di cartoline della nostra città che ricostruiscono un po' la storia di Battivaglia perché anche se stai a Siena insomma ti ricordi di questa della città che ti ha dato di origine anche se il papà con scoperto è calabrese ma la mamma qui insomma la nonna qui a Battivaglia però voglio dire a me è piaciuto molto il libro di Francesco Bonito non so se hai avuto modo di vederlo chi me lo va via? a me è un libro di Francesco Bonito che fa un omaggio a questa città e ricostruisce la sua storia attraverso le cartoline che si è andato un po' a scoprire in tutte le parti d'Italia e non solo cioè tu mandavi la cartolina da Battivaglia la mandavi in Austria la mandavi a Roma la mandavi a Milano e non so come ha fatto un lavoro in mare ma è bellissimo perché ti rendi conto delle origini di questa città che era una città fatta di pastori di agricoltori e dove c'è ora la piazza della Repubblica ci stavano i buoi gli asinelli il birocino si veniva a battere la paglia qui insomma è l'area mercato e quindi vedi le trasformazioni della nostra città attraverso le cartoline questo libro mi è piaciuto molto per cui abbiamo preso le cote e quando c'è un nostro concittadino che insomma non vive più qui glielo offriamo per ricordarsi della città di patria io sono partita pure io alla tua paura però sono ritornata per due anni ma anche perché poi mi sono andata più al lavoro clinico come scienziato immagino che sicuramente insomma probabilmente non rimane neanche più in Italia però te lo porterai con te saluti da mattina a parte che ci sono le foto storiche ci stanno i boi ma ce n'è una questa è la piazza vedi ma ci stanno i boi questa è la piazza della repubblica vedi come era prima non c'era cosa del merito ignoto ovviamente siamo all'inizio dei novecenti quindi non c'era la guerra non c'è stata la guerra queste erano dove era poi la banca d'america d'Italia qui ci stanno la finanza insomma e qui ci sono le comprese e qui c'erano i boi che venivano a pascolare e tutta così vedi fino a che poi arrivi dai giorni nostri agli anni settanta questa poi ti faccio una denica poi ti faccio una denica grazie mille grazie mille grazie mille